Ho 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 ho, buona... 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 buona Pasqua? Buah, eh, Kooch, ben ritrovati da vostro, andrei in cromantone in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch, poni poni! Siamo in un nuovo evento, l'evento natalizio che tutti stavano aspettando. Io veramente no, non me l'aspettavo e sinceramente neanche mi interessava se ci sarebbe stato un evento a tema natalizio, ma avrei comunque sia recensito, o meglio, diciamo, spulciato le missioni e le avrei tradotte appunto per farvi sapere cosa c'è da fare di preciso, anche perché comunque sia ci sarebbe un gruppo Telegram di Yo-Kai Watch, poni poni, che rilascia un doc file, ma sinceramente non so qual è e non so neanche quando effettivamente venga rilasciato questo doc file, quindi fino a che non viene rilasciato, io comunque sia, a me non mi interessa se viene rilasciato prima o dopo, io faccio comunque il video e se vi fa piacere ve lo guardate, se non vi fa piacere non ve lo guardate. Iniziamo subitissimo con i nuovi eventi, dunque in teoria l'avrei iniziato per farvi un attimino capire come fare certe missioni, perché se no non ci capiamo nulla. Iniziamo però con le quest dell'evento. Come sempre ci sono sempre sette quest, la prima è di sconfiggere Overnian Santa. Praticamente in questo evento c'è da prendere, se volete, la triple S, Overnian vestito da Babbo Natale. Ovviamente è come il gioco del ripiglino, però invece di lanciare appunto gli Yo-Kai li fate combattere, e avete un tot di vita, la barra della vita che avrete appunto qui in alto. Se finite tutta quanta la vita dovete o aspettare che si ricarichi, o comunque sia comprare o usare, se ritrovate durante gli scontri, delle polveri mediche, quelle che si trovano anche negli Yo-Kai Watch per 3DS. Però andiamo appunto a vedere questa e questa. Allora, Overnian Santa. Allora, questa missione è la prima estrana perché probabilmente non me l'ha data, ma sarebbe da completare il primo livello dei portali sull'infinitone. Qui abbiamo i portali. Non so, forse il primo livello che si fa non conta perché è un livello di prova, quindi fatelo fino a che non riuscite a trovarlo e quindi completare la prima quest. La seconda è di entrare nel livello 2 della sala dei regali, dato che stiamo sotto tema natalizio, insomma, la sala dei regali, quella d'oro. Fatevi amico Freddy. Freddy è uno Yo-Kai comunque sia che si trova facilmente durante gli stage, quindi lo trovate e fatevelo amico. Configgete al livello 28 Whisper Santa. Whisper vestito da Babbo Natale. Questo è simile al livello dei regali, però dovete arrivare al livello 4, completarlo per 4 volte. Sconfiggete appunto Nevina vestito da Babbo Natale e giocate l'attacco al punteggio. Ora nel primo stage c'è questo Yo-Kai, che mi sembra sia schede bella. Se non l'avete come amica, reclutatela perché servirà per una missione. Ma iniziamo dalla prima missione che è quella di aiutare gli amici. Dovete aiutare gli amici per 50 volte se volete ricevere tutte quante queste ricompense, queste 9 ricompense. Se le aiutate una volta, riceverete della polvere magica per curarvi la polvere medica. Se li aiutate 3 volte, riceverete 100 punti Yo-Kai. Se li aiutate 6 volte, un'altra polvere medica. Se li aiutate per 10 volte, 150 punti Yo-Kai. Per 15 volte, un'altra polvere medica. Per 20 volte, 200 punti Yo-Kai. Per 30 volte, un'altra polvere medica. Per 40 volte, 300 punti Yo-Kai. E se li aiutate per 50 volte, un libro delle skill. E i libri delle skill su alcuni Yo-Kai sono eccezionali. Quindi mi raccomando, fatelo perché è davvero semplice aiutare gli amici. Ce la fate in pochissimi giorni a farla, se non avete tanti amici. Passiamo ora a queste missioni, che sono quelle più interessanti, se vogliamo. Nella prima mappa, allo stage numero 3, sconfiggete lo stage in 85 secondi. Missione numero 2. Completate, nella prima mappa, lo stage numero 7 con almeno 100.000 punti. Terza missione. Completate lo stage 11 con solo Yo-Kai di rango B. Tutta la squadra deve essere di rango B. Non più bassa, non più alta. Completate lo stage 13 facendo almeno 3 sfere bonus. Collezionate 35 stelle sulla prima mappa. Completate almeno 3 missioni delle 5 richieste sulla prima mappa. E questo qui, completate tutte e 5 le missioni della prima mappa. Vai sulla seconda mappa, stage numero 17. Completatelo con in squadra Cara Cara San. Cara Cara San è quella che vi ho detto di reclutare poc'anzi. Ci vuole quello Yo-Kai. Ok, quindi con lei in squadra, completate lo stage 17. Stage numero 23. Completalo con almeno 3 Energy Max. Stage numero 28. Completalo con solo Yo-Kai di rango B. Quindi in squadra solo rango B senza usare continua. Completa lo stage segreto 1. Non chiedetemi come si fa perché ho solo giocato all'inizio. Solo il primo stage ho giocato. Quindi completa lo stage segreto. Il primo che trovate. Il primo stage segreto. Facendo 5000 danni, quindi con un solo attacco dovete fare 5000 danni con la tribù sfuggente. Colleziona 42 stelle sulla seconda mappa. Finisci almeno 3 missioni della seconda mappa. Finisci tutte e 5 le missioni della seconda mappa. Queste si ripetono. Ora, terza mappa. Completa lo stage numero 30 con almeno il 50% dei punti vita senza usare continua. Quindi se vi finite tutta quanta la vita della squadra e usate continua non ve lo conta. Completate lo stage 37 con Freddy. Completate lo stage 45 con in squadra Ori Falcon di cui vi metto la foto. Non ho idea di come si chiama in italiano perché in realtà non c'è neanche una traduzione. È uscito su Blasters 2 o Busters 2 come vi pare. Quindi con Ori Falcon. Finite il livello 45 con Ori Falcon senza usare continua. Non ho idea di come si recluti nel gioco. Se c'è un livello particolare, se è in uno stage segreto. Perciò completate il secondo stage segreto con solo yokai di rango S. Quindi tutta la squadra di rango S. È fantastica sta cosa. Collezionate tutte le stelle su tutte le mappe. Completate almeno tre delle cinque missioni della terza mappa. Completate tutte le missioni della terza mappa. E riceverete appunto i colpi segreti supremi. Quelli che vi fanno salire l'Energy Max di due punti. Quindi se lo volete completate queste missioni. Ma se andassimo a fare una slottata, tanto per gradire. Che tanto non trovo nulla, eh. Scriviamo tutto insieme. E infatti... Oddio, a parte questo rango B che è nuovo, non ho trovato nulla. Facciamone un'altra, tanto per gradire. Dove proprio rovinare il giochetto, eh. Tanto ne faccio un'altra. Ve volevo farne tre. E tre ne faccio. Sicuramente ci saranno i saldi. Mi sembra che per due giorni ogni evento ti fanno usare meno punti yokai. Eccolo qua. Ehi, solo due d'oro. Apriamo tutto quanto insieme. Vediamo un po'. Oh, c'è questo qui che è nuovo. Che è un rango S. Beh, insomma. Mi posso ritenere soddisfatto, eh. Insomma, non è che ho trovato nulla di che. Però c'è la signorina qui, tripla S, che... Porca miseria, quanti danni fa. Tanto che ho un portale aperto. Andiamolo a vedere insieme. Eccolo qua, va. Ora, per aiutare gli amici, vi faccio vedere anche come si fa. Andate qui, cliccate sul nome. Dagli un po' di... Il 10% dei punti vitali. E a posto, così si aiutano gli amici. Semplice. Ora andiamo a fare questo evento qui del portale. I portali bizzarri. Oh, la stanza dei regali. Dovrebbe essere presente un Omon livello 1. Ah, l'Energy Max ci si carica più lentamente. No, l'Energy Max, il Fever Time. Perfetto, al massimo. Distruggilo. Poverino. Mi dispiace, ma poco. Mi dispiace pochissimo, eh. E quindi, Kujo, questo era anche per questa volta l'evento di Yo-Kai Watch Puni Puni. Tornerò, per conto mio, a vedere se aggiungeranno qualcos'altro. E se così, eh, vi farò la cover. Vi farò una coverage, comunque sia. Vi dirò quello che c'è da fare. Però, per il momento, per Yo-Kai Watch Puni Puni è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye.